Attimi di paura durante il match del campionato Under-17 regionale fra Spess Battipaglia e San Sebastiano Mazzeo. Al termine di un alterco scoppiato per ragioni ancora in corso di accertamento, il padre di un ragazzo della squadra di San Sebastiano al Vesuvio avrebbe estratto una pistola. Ad avvalorare l'accaduto le persone ascoltate dai carabinieri, allertati dai dirigenti della squadra battipagliese, che hanno confermato la presenza di un'arma da fuoco. Non è stato possibile invece identificare l'uomo che alla vista dei militari ha fatto perdere le proprie tracce. La gara, dopo una breve sospensione e ripresa, concludendosi nella normalità più assoluta. I ragazzi in campo, compreso il direttore di gara, non sono mai stati in pericolo, fanno sapere dalla Spess. Il direttore di gara, accompagnato dall'osservatore arbitrale presente sul campo, ha potuto svolgere il suo compito in totale tranquillità. Purtroppo, insieme alla società San Sebastiano Mazzeo, siamo stati vittime di una singola persona che ha rovinato uno splendido pomeriggio di sport. Duro il commento del presidente della FIGC Salerno, Enzo Faccenda. Un atto inaccettabile che abbiamo denunciato immediatamente agli organi competenti. Ci troviamo di fronte ad una situazione che non solo merita una ferma condanna, ma nel contempo ci invita a riflettere sui valori dello sport da trasmettere ai nostri ragazzi.